La procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio di Corrado Robimarga e Stefano Mariotti nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni l'ex assessore del comune di Teramo Maestra di un asilo di colleatterato basso salvata da un attacco cardiaco grazie all'utilizzo del defibrillatore Fondi per l'alluvione del marzo 2011 Enrico Mazzarelli rassicura sindaci e presidente della provincia I soldi del governo arriveranno oltre a 20 milioni che saranno stanziati dalla regione Abruzzo Dalla protezione civile arrivano 1.700.000 euro per interventi di miglioramento sismico di tre ponti in provincia di Teramo Controlli a tappeto e multe fino a 500 euro per cittadini e commercianti teramani che lasciano fuori il mastello della raccolta differenziata oltre l'orario consentito Gli abitanti di via Bolzano a Martinsicuro raccolgono dalla strada le siringhe usate le chiudono in una bottiglia, le attaccano ad un segnale stradale in segno di protesta per l'incuria in cui versa la zona Sta per nascere il contratto di fiume per la corretta gestione delle aste fluviali soprattutto nel caso di eventuali alluvioni Banca Ter Casteramo ad un passo dalla salvezza dopo la vittoria di ieri sera a Roma Paghi uno e vedi due, parte la promozione e biglietti per le ultime due gare interne della stagione Giulia Nova domani in campo a Vivo Valenze arbitrerà Filippo Giorgetti di Cesena Domenica il Teramo a Pesaro per provare a centrare la promozione matematica Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte Buonasera, la procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio di Corrado Robimarga e Stefano Mariotti nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni l'ex assessore del comune di Teramo Vediamo il servizio La procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio di Corrado Robimarga oggi responsabile medico dell'unità semplice dipartimentale di urologia di Giulia Nova ex assessore comunale all'urbanistica e del dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Teramo Stefano Mariotti Si tratta del fascicolo d'inchiesta aperto nel 2011 che un anno fa portò alla sospensione per due mesi dall'attività professionale del medico e successivamente anche alle sue dimissioni da assessore perché accusato di peculato per aver svolto visite a pagamento in ospedale senza versare il dovuto all'azienda sanitaria e di truffa aggravata ai danni dell'ASL per aver fatto risultare la sua presenza in reparto attraverso la timbratura del beige essendosi in realtà assentato dal servizio Alle originarie accuse di peculato e truffa il procuratore capo Gabriele Ferretti e il sostituto Davide Rosati hanno aggiunto anche la contestazione di falso ideologico per aver falsificato la cartella clinica di un paziente del reparto di urologia del Mazzini e in concorso con il dirigente Mariotti anche per truffa di aver falsificato permessi firmati in bianco dallo stesso dirigente per far risultare farsi impegni legati al suo incarico di assessore per assentarsi dal posto di lavoro Alla vicenda Robimarga è collegata un'altra inchiesta che però vede coinvolti non il medico ma i vertici dell'ASL di Teramo con i direttori generale Varrassi, amministrativo Ambrosi e sanitario Antelli per la nomina dello stesso Robimarga al responsabile dell'unità operativa di urologia di Giulianova avvenuta nel dicembre scorso per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio Ancora la cronaca, una maestra della scuola materna è stata salvata questa mattina da un attacco cardiaco grazie all'intervento dei volontari della Croce Rossa e poi del medico del 118 che hanno utilizzato un defibrillatore è accaduto poco prima di mezzogiorno in una scuola del quartiere di Colle Atterrato Basso la donna, teramana 54 anni, ha subito verosimilmente una fibrillazione ventricolare ed è andata in arresto cardiaco immediato l'allarme alla sala operativa del 118 di Teramo e l'invio di un'ambulanza della Croce Rossa e dell'automedica mentre un volontario ha cominciato le manovre con il massaggio cardiaco il defibrillatore è entrato in azione la scarica è stata utile e provvidenziale per rimettere in moto il muscolo cardiaco all'intervento di emergenza, all'intervento non invasivo in sala operativa la donna è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita all'ospedale Mazzina adesso fortunatamente non è in pericolo di vita Ancora alla cronaca, sequestrano un commerciante di pesce lo minacciano con pistola e coltello si fanno consegnare gioielli e preziosi ma quando escono dalla villa incrociano i carabinieri che stavano intervenendo ne scaturisce una colluttazione ma i ladri, tre, riescono a fuggire parte del bottino è stato recuperato è successo la scorsa notte poco dopo le 2 sulla via Permosciano alla periferia di Giulianova a Paese i malviventi a volto coperto hanno aspettato che il commerciante, un trentenne uscisse di casa a una villa isolata per recarsi all'asta del pesce a San Benedetto del Tronto lo hanno bloccato puntandogli una pistola giocattolo alla testa e mostrandogli un coltello sono rientrati con lui in casa dove c'erano la compagna e la mamma che dormivano e gli hanno chiesto di aprire la cassaforte approfittando di un momento di distrazione dei rapinatori la compagna del commerciante ha chiamato con il telefonino il 112 i carabinieri della compagnia di Giulianova diretti dal capitano delle Grazie hanno incrociato i rapinatori mentre scavalcavano una finestra dell'abitazione è nata una violenta colluttazione i tre sono riusciti a fuggire buttandosi nel vicino fossato sotto la pioggia battente nella colluttazione e nella fuga i banditi hanno mollato la pistola e parte del bottino un orologio Rolex del valore di 4.500 euro gioielli e 1.000 euro in contanti per tutta la notte e tuttora ancora in corso le battute di ricerca dei tre malviventi secondo gli investigatori i malviventi che parlavano con accento meridionale potrebbero essere del posto i sostituti procuratori di Ascoli Cinzia Piccioni e Carmine Pirozzoli hanno chiesto il rinvio a giudizio di Katia Reginella e Danny Pruscino accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi dal vincolo di parentela e distruzione di cadavere del piccolo Jason scomparso a giugno 2011 quando aveva soltanto due mesi il piccolo era stato concepito dalla donna in una precedente relazione ma Danny che ha poi sposato Katia lo aveva riconosciuto l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 30 maggio davanti al group di Ascoli tra le fonti di prova raccolte vi sono le testimonianze di alcuni compagni di Cella di Pruscino che hanno ascoltato il suo sfogo in un momento di cedimento i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino macedone sorpreso all'interno di un supermercato del Tigre a rubare generi alimentari è successo la scorsa notte verso le tre la pattuglia dei militari avvertita dal servizio di vigilanza dopo che era scattato l'impianto di allarme sono intervenuti nei pressi del supermercato di via Matteotti a Lido a Giulianova Lido e hanno sorpreso il cittadino extracomunitario Nafim Quazimi 22 anni era all'interno del negozio vi era entrato dopo aver spaccato una vetrata con una pietra e stava raccogliendo merce che nascondeva nel giubbotto e la seconda volta in una settimana che il macedone viene sorpreso nella stessa azione era già successo lo scorso 10 aprile al supermercato Dico sempre a Giulianova è stato rinchiuso nel carcere di Castronio in attesa del processo fissato al prossimo 3 maggio e lasciamo la cronaca e cambiamo argomento i fondi per i danni dell'alluvione arriveranno non è questione di presentazione di domande in ritardo altro il prossimo Consiglio dei Ministri prorogherà lo stato di emergenza per la provincia di Teramo e non ci sono ordinanze già firmate per altre regioni l'Abruzzo sarà in linea con le altre ai 5 milioni che ha stanziato il governo la regione Abruzzo ne metterà 20 di fondi propri per ristorare i danni dell'alluvione del marzo 2011 la precisazione del segretario alla presidenza della giunta regionale Enrico Mazzarelli ascoltiamolo in questi giorni si è aperta una polemica in merito ai fondi per l'alluvione del 2011 destinati alla provincia di Teramo è vero che la regione Abruzzo rischia di perdere questi fondi? io colgo l'occasione di questa intervista per rassicurare innanzitutto i sindaci il presidente della provincia cioè gli enti che di più hanno speso attraverso le somme urgenze nel momento immediatamente successivo all'alluvione il prossimo Consiglio dei Ministri che potrebbe essere addirittura quello di domani prorogherà lo stato di emergenza per la provincia di Teramo non ci sono allo stato ordinanze di protezione civile già firmate per nessuna regione sono state attualmente tutte bloccate per delle osservazioni del MEF riteniamo ragionevolmente che la regione Abruzzo sarà in linea con le altre regioni in termini di tempo per quanto riguarda invece le somme la regione Abruzzo è l'unica che ha stanziato 20 milioni di euro di risorse proprie per aumentare la somma messa a disposizione dal governo per la provincia di Teramo cioè i 5 milioni di euro che ci ha proposto il Dipartimento di protezione civile nella bozza di ordinanza siete stati accusati comunque di aver presentato in ritardo la domanda per avere la proroga per questi fondi, è così? ma guardi, siete stati accusati di aver presentato in ritardo una domanda rispetto a cosa io francamente lo considero un aspetto non interessante per nessuno quello che interessa la gente quello che interessa i cittadini quello che interessa gli amministratori è che lo stato di emergenza venga prorogato e che arrivino le risorse le risorse arriveranno non soltanto quelle del governo ma arriveranno i 20 milioni che ripeto la regione Abruzzo come unica regione ha inteso mettere a disposizione del commissario che stava nominato con la ordinanza di protezione civile per la soluzione almeno iniziale dei problemi dell'alluvione il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sulla base degli esiti delle verifiche sismiche eseguite sui ponti con precedenti programmi regionali ha approvato gli interventi di miglioramento sismico proposti dall'assessorato regionale alla protezione civile lo ha reso noto l'assessore Giulianti il programma proposto è stato finanziato con un importo complessivo di 1,696 milioni e prevede tre interventi di miglioramento sismico nello specifico presso il ponte Peratria a Notaresco 982 mila euro il ponte di Frattoli nel comune di Crognaleto per 297 mila euro il ponte di Aprati sempre nel comune di Crognaleto per 415 mila euro le tre infrastrutture sono a carattere strategico e disponevano dei previsti requisiti di alto indice di rischio sismico e rientrano nelle competenze dell'amministrazione provinciale di Teramo l'ex ministro Giuseppe Fioroni a Teramo ha parlato di politica e governo tecnico ascoltiamolo onorevole Fioroni la differenza tra un politico e un tecnico qual è? io credo che ciascuno di noi quando ha bisogno di qualunque professione dal medico all'ingegnere all'idraulico o a chiunque altro cerca capacità competenza e serietà credo che la prima differenza che c'è è l'essere uomini e nel modo in cui gli impegni si portano avanti i tecnici hanno grande professionalità oggi sono stati chiamati in un momento di crisi del paese di crisi della politica a portare avanti situazioni di emergenza per non far fare l'Italia alla fine della Grecia hanno bisogno però di rendersi conto che la complessità della società italiana richiede anche ai tecnici uno sforzo di sintesi che la politica deve quotidianamente fare tra interessi contrastanti e riscoprire la politica del bene comune e credo che il presidente Monti sta lavorando in questo senso ed è giusto che adesso passata la Buriana i politici si riappropriano del loro ruolo istituzionale insomma se la seconda repubblica è finita con la politica in panchina e solo il 4% degli italiani ci affiducia nei partiti bisogna che i partiti oltre a cambiare la legge elettorale riformino anche la politica ritornando ad una politica che è quella del bene comune ritornando a una politica che non può fare a meno dell'etica e ritornando ad avere credibilità e autorevolezza rispetto ai cittadini oggi l'antipolitica non è qualcosa se strano l'antipolitica è una politica contro che non ha acquisito ancora la consapevolezza di quello che vuole le forze politiche che oggi esistono sono in grado di riformarsi di innovarsi di scrivere una pagina nuova della storia del paese evitando di scrivere l'ultima pagina semplicemente perché il gruppo dirigente vuole fare un ultimo giro di giostra se mettono in discussione se stessi la voglia di conservare ciascuno di noi le posizioni che ha per fare invece un passo di lato e contribuire ad andare oltre con l'innovazione con il cambiamento e con la voglia di modificare profondamente le cose che non vanno la politica esisterà comunque che il gruppo dirigente attuale vada avanti è legata alla capacità che avremo di superare la conservazione e gli errori che abbiamo fatto in arrivo a Teramo multe fino a 500 euro per i cittadini e i commercianti che lasciano fuori il mastello della raccolta differenziata oltre l'orario consentito una task force controllerà il territorio e porterà via il mastello al proprietario indisciplinato ascoltiamo il sindaco Brucchi giro di vite contro quei cittadini indisciplinati che lasciano i mastelli all'esterno delle proprie abitazioni fuori dagli orari consentiti Sì stiamo ricevendo una serie di segnalazioni da parte di altri cittadini che non gradiscono quelle persone che insomma non rispettano quello che è oramai un modo di vita direi appreso e che i cittadini terramani hanno fatto proprio e di questo io sono contento perché devo dire che la differenzata va bene siamo a ottimi risultati insomma sopra il 60% e quindi diciamo la differenzata va bene è chiaro che però c'è qualcuno che insomma ancora non comprende bene quali devono essere le modalità di conferimento del rifiuto allora il mastello non può essere lasciato fuori per tutta la giornata così questo vale per i cittadini vale per i condomini e vale anche per gli esercizi commerciali abbiamo detto più volte che avremmo fatto un'attività di prevenzione l'abbiamo fatta la TEAM insieme al Vigile è andato in giro per il territorio a cercare di spiegare e di far capire c'è qualcuno però che non comprende questo discorso e allora partono i controlli c'è stata una riunione la settimana scorsa con i vigili e con la TEAM e da questa settimana sono partiti i controlli in alcune zone del nostro territorio lo faremo su tutto il territorio è chiaro che partiamo da quelle zone dove ci sono arrivate le segnalazioni dove i mastelli persistono per tutta la giornata lì fuori e diventano una sorta di piccola discarica anche da un punto di vista igienico ma soprattutto anche da un punto di vista come dire di vedere questi mastelli fuori non è sicuramente una bella cosa ma poi ripeto tutti la maggior parte dei cittadini la fanno in un certo modo quindi tutti stanno adeguati questo che vuol dire vuol dire che andremo in questi territori e chi non si porta il mastello a casa sarà in qualche modo sanzionato Regione Marche Provincia di Ascoli Piceno e Provincia di Teramo insieme per ottenere finanziamenti dal Governo per il rilancio industriale dell'area vibrata Tronto il servizio Anche la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno hanno firmato la richiesta partita proprio dalla Provincia di Teramo di trasformare in accordo quadro il protocollo d'intesa sul rilancio industriale dell'area vibrata Tronto Il fatto che ci interessiamo di due territori in due regioni diverse quindi è pluriregionale diciamo così il discorso pluriprovinciale il fatto che le regioni Abruzzo e Marche sono disposte a mettere una dotazione finanziaria all'interno di questo protocollo il fatto che la provincia si è dotata di un piano di rilancio di quella zona e per fare questo ha immesso una sua dotazione finanziaria rende questo protocollo d'intesa unico nel panorama italiano dei protocolli d'intesa e quindi unico anche per quanto riguarda la possibilità di trasformarlo in un accordo di programma quadro e devo dire che il governo centrale ha recepito questo nostro ragionamento chiediamo di incontrare anche il ministro Passera e questo speriamo che arrivi nel breve tempo possibile perché Gianni Chiodi farà la sua parte il presidente della regione Marche farà la sua parte il ministro Barca ci appoggia in questo e quindi con le province e con tutti attenzione gli attori locali tutti nessuno escluso ma particolarmente le organizzazioni sindacali datoriali dei lavoratori sono con noi hanno firmato con noi questi protocolli d'intesa e quindi c'è la massima condivisione la massima trasversalità anche per cui noi riteniamo che non possa essere rifiutato la trasformazione da protocollo d'intesa Val Vibrata Tronto a accordo di programma quadro Val Vibrata Val Tronto Il sindaco di Giulia Nova Francesco Mastromauro ha fissato per lunedì 23 aprile alle 18.30 in sala consigliare una riunione con i cittadini per illustrare e discutere la proposta progettuale dell'amministrazione di Giulia Nova elaborata su indicazione della maggioranza relativa a Piazza Buozzi e alla viabilità del centro storico giuliesi Gli abitanti di via Bolzano a Martinsicuro raccolgono le siringhe usate le chiudono in una bottiglia e le attaccano ad un segnale stradale in segno di protesta per l'incuria in cui versa la strada il servizio Una bottiglia con delle siringhe usate dentro è un'immagine decisamente inusuale quella che si può notare in via Bolzano a Martinsicuro a due passi dal centro cittadino alcuni dei residenti hanno raccolto delle siringhe usate dai tossici che erano stati abbandonati qui sulla strada nell'adiacente fossato e poi le hanno messe all'interno di questa bottiglia quasi a voler dimostrare probabilmente l'incuria alla poca attenzione che le istituzioni danno a questo tipo di problema Da tempo questa è una zona abbattuta dai tossici che vengono probabilmente approfittando delle ore notturne a iniettarsi la dose quotidiana soprattutto quando in questa zona sono parcheggiati dei mezzi pesanti quindi probabilmente possono fare le loro cose con maggiore tranquillità poi abbandonano il tutto le siringhe sulla strada e nel fossato ovviamente è stato chiesto alle istituzioni di intervenire di pulire questa cosa non è stata fatta non ci sono nemmeno i controlli quindi i residenti hanno sistemato questa bottiglia attaccandola ad un palo della segnaletica per rendere visibile a tutti a chi di passaggio quella che è una problematica anche perché in questa zona passano anche dei bambini che vanno a prendere gli scuolabus e quindi è un problema ulteriore la speranza ovviamente che questo tipo di problematica venga affrontato e risolta a partire dalla prossima amministrazione che si insedirà tra qualche settimana il comune di Basciano fa sapere che si sono appena conclusi i lavori per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria di Portolungo sita nella frazione di Villa Santa Maria la chiesa era rimasta danneggiata in seguito al sisma del 6 aprile 2009 il sopralluogo effettuato subito dopo gli eventi aveva evidenziato lesioni importanti sulle murature portanti subito dopo il sisma si è provveduto alla rimozione degli intonaci pericolanti e si è ordinata l'interdizione a scopo cautelativo dell'utilizzo dell'edificio le quattro prefetture abruzzesi e l'ANAS hanno firmato un protocollo d'intesa per prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici il servizio protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici siglato tra le quattro prefetture d'Abruzzo e l'ANAS riguarderà appalti per lavori stradali e autostradali di importo superiore ad un milione di euro l'accordo nasce dall'esigenza di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa monitorando e vigilando ogni fase dei lavori e contrastando gli eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici soprattutto nelle attività considerate maggiormente a rischio ovvero quelle che si pongono a valle della giudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali il documento recepisce la legge 136 del 2010 e introduce ulteriori modalità di controllo soprattutto sulla tracciabilità dei flussi economico-finanziari prevedendo l'applicazione della penale del 10% a carico dei soggetti colpiti da interdittiva antimafia da versare su un apposito conto corrente di ANAS che sarà la prima stazione appaltante ad adottare questa nuova procedura i proventi derivanti dall'applicazione della penale saranno impiegati sulla base delle direttive delle prefetture territorialmente competenti per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione Cipe del 3 agosto 2011 di approvazione delle linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia il protocollo prevede l'obbligo per le imprese esecutrici di comunicare alle prefetture le informazioni necessarie per realizzare le verifiche antimafia per i subappalti e di denunciare tempestivamente ogni richiesta illecita di denaro o di presentazione che venga avanzata nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente Sta per nascere il contratto di fiume per la corretta gestione delle aste fluviali soprattutto nel caso di eventi alluvionali vediamo il servizio un attimo che arriva la provincia di teramo sta lavorando per il progetto airship ovvero il contratto di fiume assessore di cosa si tratta? si è un progetto un interreg 4c appunto denominato airship siamo partner insieme al comune di teramo di questo progetto che ha partner europei riguarda appunto la gestione delle aste fluviali questo progetto airship ha praticamente prevede un contratto di fiume sul fiume appunto Tordino e abbiamo un po' cercato di trovare una soluzione a questo annoso problema e cioè che ogni volta abbiamo visto che succede qualcosa sulle aste fluviali non sappiamo mai di chi è la competenza chi deve fare cosa e quando lo deve fare e quindi con il contratto di fiume appunto abbiamo questa finalità e cioè quella di condividere un percorso unitario con tutti gli enti che hanno competenza appunto sulle aste fluviali e appunto fare un contratto di fiume cioè significa vedere un attimino quali sono quindi fare una prima fase di analisi delle problematiche appunto del fiume stesso e successivamente mettere in campo quelle azioni per un miglioramento delle aste fluviali naturalmente è un accordo assolutamente volontario tra gli enti e quindi riteniamo insomma di fare una cosa assolutamente valida per il nostro territorio riteniamo tra l'altro che possa essere uno strumento valido per tutte le altre aste fluviali che in qualche modo debbono trovare un modo di governance e quindi risolvere un po' le problematiche legate alle alluvioni e quindi alle aste fluviali adesso ci spostiamo a Nereto il comune di Nereto sta inviando ai cittadini gli avvisi per l'accertamento dei pagamenti della Tarsu del 2011 vediamo sindaco in questi giorni sono stati recapitati degli avvisi di accertamento della Tarsu relativamente all'anno 2011 un'operazione ovviamente necessaria che però ha creato forse magari qualche allarmismo ma più che allarmismo fastidio per quei cittadini che avevano pagato mi rendo conto che questi avvisi come li ha chiamati giustamente non sono cartelle non sono accertamenti ma sono tanti degli avvisi emessi dall'ufficio tributi per invitare i cittadini che non avevano pagato la Tarsu 2011 a pagare c'è stato questo disguido che ha coinvolto non sappiamo ancora bene il numero preciso dei cittadini un certo numero dei cittadini che avevano già pagato io mi sono scusato con un comunicato stampa fatto qualche giorno fa però ci tenevo a sottolineare una cosa il neo ufficio tributi perché da quando siamo arrivati noi uno degli scopi principali era quello di rimetter su ufficio tributi che mancava da anni è quello di andare a ricercare gli evasori c'è stato qualche disguido nell'intercettare i nominativi di quelli che avevano pagato e questo ci ha creato qualche problema però invito tutti quanti a venire qui in comune o mandare un fax una fotocopia della bolletta per comprendere bene chi ha pagato e chi non ha pagato d'altra parte stiamo lavorando per evitare che questi disguidi ci siano in futuro stiamo vedendo con le poste di avere un elenco più dettagliato di tutti quelli che hanno pagato insomma questa è la nostra come dire la nostra linea già tracciata per il 2012 non vogliamo aumentare le tasse abbiamo un bilancio sano e non vogliamo aumentare la pressione fiscale ai cittadini lo dice il sindaco di Alba Adriatica Franchino Giovannelli servizio sindaco sono giorni importanti anche per il comune di Alba che sta elaborando la sua manovra finanziaria per il 2012 quali saranno le novità più importanti tutto il lavoro che stiamo facendo è per vedere almeno di alleggerire quella che è e quella che sarà nell'anno 2012 diciamo da parte delle famiglie una grossa sofferenza soprattutto per l'Imu questo è il problema principale noi sicuramente manterremo le aliquide dello Stato sulla prima casa al 4 per mille perché sulla seconda casa lo Stato prenderà il 50% del gettito e poiché noi diciamo abbiamo un bilancio sano quindi non abbiamo bisogno bisogno di diciamo di prendere soldi dai cittadini per ripianare nulla oltretutto insomma qui è la polemica anche per il fatto che noi non possiamo spendere i soldi che abbiamo perché noi abbiamo un avanzo di amministrazione di un milione e 400 mila euro noi pensiamo di per avere lo stesso gettito in quanto lo Stato molto probabilmente trasferirà circa 900 mila euro in meno di aumentare di un solo punto anche la seconda casa per quanto concerne invece le altre tassazioni addizionali IRPEF rifiuti noi non toccheremo nulla quindi tutto rimarrà invariato non ci saranno aumenti di nessuna sorta molto probabilmente anche se poco per dare un segnale abbasseremo anche la TIA quindi la tassa raccolta rifiuti e adesso ci occupiamo di una festa molto sentita la festa della Madonna dello Splendore di Giulianova il servizio siamo a Giulianova Paese nella cripta di San Flaviano per la presentazione della 31esima edizione della festa della Madonna dello Splendore anche quest'anno un intenso e ricco programma pieno di eventi noi siamo insediati nel 1982 la prima festa per cui siamo arrivati alla 31esima edizione quindi anche la rivista della 31esima edizione ecco ricordiamo che questa è una delle feste più antiche beh a parere di molti questa è la più antica d'Abruzzo è la festa più importante è una una delle feste più importanti d'Abruzzo in giorni dal 21 e 22 sono due giorni di festa anche se diciamo che oggi è l'inaugurazione della rivista domani inizia con la processione dal santuario la Madonna Splendore viene qui al monastero Santo Volto poi si va avanti fino al 21 21 c'è l'arrivo di Francavella Fondana la banda la tradizione naturalmente poi lo showman di Olivieri e subito dopo in piazza Belvedere c'è l'esibizione del gran concerto bandistico città di Francavella Fondana si prosegue per il 22 dove effettivamente c'è la santa processione alle 10 dove tocca tutta Giulia Nova i grandiosi fuochi perotecnici in piazza adiacente alla Madonna dello Spendore poi subito dopo alle 4 c'è la famosa pizzica del Salento concludiamo la festa con gli sugar free cantanti e in piazza Belvedere la banda di Conversano di Angelo Schirinzi quali sono stati i problemi che avete trovato per organizzare questa festa? sì quest'anno più degli altri anni perché ci troviamo in un momento di crisi naturalmente reperire i fondi è stato un po' difficile dobbiamo ringraziare tantissimo gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della 31esima rivista della Madonna dello Spendore dobbiamo ringraziare Don Domenico che ci ha creduto vivamente in noi è molto contento e questo ci rusinga e ci fa piacere dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale il sindaco che è stato vicino proprio in momenti difficili e adesso vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo al mattino tempo caratterizzato da ampie schiarite dal pomeriggio velature e stratificazioni in transito con possibili fenomeni sulle aree montane settentrionali tra sera e notte graduale compattazione della copertura nuvolosa su gran parte del territorio provinciale temperature in aumento massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 14 e 17 gradi sulle coste venti deboli settentrionali al mattino tendenti a ruotare e rinforzare dai quadranti occidentali nel pomeriggio mare poco mosso quasi calmo apriamo la pagina sportiva con il basket la terza vittoria stagionale in trasferta vuol dire per la banca terca steramo fare un bel passo verso la salvezza ieri sera infatti la squadra di coccia ramaglia ha battuto la cea a roma a roma per 85 a 93 domenica la banca terca sosserverà un turno di riposo ma casale ora in segue a ben 8 punti di distanza prima di vedere il servizio sulla splendida vittoria di ieri sera a roma vi ricordo che questa sera alle 21 ci vedremo in basket la trasmissione dedicata ovviamente alla banca terca steramo ospiti il presidente lino pellecchia e il capitano della banca terca steramo gianluca lulli oltre alla presenza fissa di francesco di francesco ma vi ricordo anche un altro appuntamento perché in tanti ci hanno chiesto di riproporre la partita della banca terca steramo la vittoria di roma che è andata ieri in diretta mentre si giocava ovviamente a roma e questa sera la differita vi sarà proposta alle ore 23 ma adesso andiamo a vedere proprio il servizio sulla vittoria della banca terca steramo serviva una vittoria per chiudere virtualmente il discorso salvezza vittoria tanto isperata quanto bella è stata di squadra di cuore e di attributi contro una roma lanciata la rincorsa playoff seconda parte della stagione a cui forse la scuola di Calvani ha detto addio proprio con la sconfitta di ieri sera e quando c'è da tirare fuori dal cilindro tiri importanti di Brown c'è sempre come a Casale come contro Caserta come ieri sera i 20 punti sono espressione del feeling con la retina ma non indicano anche quello in cabina di regia teramo ha annaspato solo nei primi minuti per poi attaccare con coscienza la tripla finale ha poco più di un minuto dal termine per teramo e va sul più otto e per Roma il De Profundis brodo di giugiole per i teramani ma anche per i tifosi americani del college dell'Illinois proprio come D Brown presenti in tribuna in tenuta arancio per sostenerlo teramo ha piazzato ieri sera uno dei migliori percentuali al tiro da tre della stagione 51% grazie anche a Borisov Fulz Amoroso e da gente che non ti aspetti dal perimetro come Achille Polonara già il pro di Achille 40 punti in due gare 47 di valutazione totale amato e coccolato dallo staff teramano che ne preserva l'eccessivo utilizzo perché i giovani come lui vanno gestiti e non bruciati visto che possono alternare buone prestazioni ad altre meno brillanti termo ha fatto bella figura paradossalmente anche guardando gli avversari Clay Tucker che a termo c'è nato per quanto riguarda la palla canestro 30 punti finali 18 all'intervallo lungo nessuna ansia da prestazione contro la sua ex squadra tanto talento ed unico schema dell'attacco evanescente ieri sera di Roma con una guardia di un lungo in meno un Cerella e un Lulli non al meglio e quindi con 7 rotazioni sade l'importante è essere squadra e giocare a palla canestro cosa che Teramo in stagione ha fatto se si fa eccezione all'inizio campionato e quando è scoppiata la bomba problemi economici domenica Ramagli e Soci riposeranno mentre Casale va a Biella per provare a centrare i 5 successi da qui al termine che la salverebbero a fronte ovviamente di 4 sconfitte teramane Teramo torna in campo il 25 aprile contro una Monte Granaro orfana il suo uomo migliore Sean May paradosso ora sarebbe raggiungere la salvezza matematica in campo e vedere la barca affondare fuori facciamo il pieno e lo slogan scelto dal Teramo Basket per una speciale promozione in occasione delle due gare casalinghe con Monte Granaro il 25 aprile alle 18.15 e Casale Monferrato il 2 maggio alle 20.45 vestiamo di bianco rosso il Palas Capriano la società viene incontro va incontro ai tifosi con una straordinaria offerta chi acquista i due biglietti soffrirà ad un prezzo speciale il costo complessivo dei due tagliandi valevoli per i due match ovvero Monte Granaro e Casale in casa sono tribuna d'onore 40 euro gold club 40 euro parterre 30 euro numerata sud inferiore 20 euro così come la numerata sud superiore 10 euro per la curva per la curva ovest e per la curva supporter e adesso il calcio di seconda divisione Giulianova domani in campo a Vibo Valencia per l'incontro valido per la 39esima giornata di campionato match importante in chiave salvezza per i giallorossi considerato che la vibonese insegue a sei lunghezze di distanza arbitro dell'incontro sarà Filippo Giorgetti di Cesena il servizio senza terrenze e faragalli il Giulianova è partito questa mattina alla volta di Vibo Valencia domani i giallorossi affronteranno la vibonese in uno scontro diretto per la salvezza che potrebbe decidere in anticipo le sorti di entrambe le squadre alla formazione di Marco Tosi sarà sufficiente non perdere per mantenere inalterato il vantaggio di sei punti sulla squadra calabrese attualmente invischiata nella lotta per evitare i play out all'andata Morga e compagni si imposero per 3 a 1 al termine di una gara dominata sin dalle prime battute qualche problema dunque nel pacchetto centrale della difesa del Giulianova che comunque recupera Daniello a centrocampo e del grosso nel ruolo di terzino destro accanto a Zoppetti ormai completamente ristabilitosi giocherà dunque Testoni in attacco l'unica certezza al momento riguarda il capocannoniere giallorosso Francesco Morga che dovrebbe essere affiancato uno tra Pirelli e Picone in settimana il tecnico giallorosso ha caricato la squadra convinto che a Vibo Valencia si possa fare risultato è d'obbligo con almeno un punto tenuto conto anche del fatto che il Giulianova dovrà poi osservare il riposo mentre tutte le altre concorrenti saranno regolarmente in campo domenica prossima mentre per la squadra Calabra si tratta probabilmente dell'ultima occasione per tornare a sperare nella salvezza senza passare dai play-out intanto la società di Via Migliori ha lavoro per individuare la sede per affrontare le ultime due partite casalinghe il 25 aprile si giocherà il recupero della giornata non disputata domenica scorsa per la tragedia di Pier Mario Morosini la truppa giuliese affronterà il Fondi il campo individuato e l'Angelini di Chieti mentre il 29 si giocherà la sfida con l'Ebolitana i giallorossi potrebbero scendere in campo a Città Sant'Angelo in entrambi i casi la questura di Teramo si è già messa in moto per far sì che le due partite si possano giocare su questi campi la lega di Serie D ha reso noto ieri che la giornata non giocata domenica scorsa è in programma il prossimo 22 aprile il Teramo quindi andrà a Pesaro e proverà a concretizzare nella città marchigiana un altro match ball valido per la promozione in seconda divisione la gara contro il Riccione è prevista proprio il 22 aprile si giocherà invece mercoledì 25 aprile il posticipo forzato di una settimana permetterà a mister Cappellacci di recuperare Mirko Petrella alle prese con un problema muscolare e adesso la palla a mano iniziano sabato a Pontignia i playoff scudetto per la leader Copteramo la squadra di Serafino Labrecciosa affronterà la futura Roma in trasferta poi dopo sette giorni si giocherà gara 2 al pala San Nicolò ancora in dubbio la presenza di Elena Barani per una distorsione alla caviglia rimediata sabato scorso a Salerno sempre sabato la tecla elettronica Teramo ospiterà invece al pala Giorgio Binch di Teramo il Bolzano vincitore di gara 1 nei quarti di finale scudetto alla squadra di Fonti basterà comunque provare a battere la capolista della stagione regolare di Serie A d'Elite per portare la sfida a gara 3 prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di questa sera su Teleponte alle 21 Basket & Basket ne abbiamo parlato prima ospiti Lino Pellecchia e Gianluca Lulli della Banca Ter Casteramo insieme a Francesco Di Francesco alle 22.30 il nostro TG Flash della notte alle 23 la telecronica di ferita di Acea Roma Banca Ter Casteramo vi ricordo che ci potete seguire in differita in diretta sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it e per finire domattina le nostre trasmissioni ricominciano alle 7 in diretta con Prima di Tutto con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata arrivederci a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri